Non sono una mano, no, 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 sono una mano Consuma calorie e se consuma calorie deve mangiare Ma se mangia ingrassa e se ingrassa rischia di essere messa in pentola E che pedigrassi Non so chi è che novità, non so chi è che un comore stava Nascosti, nascosti, e ogni giorno Non ne metto sempre più Perché sia un buon giorno Perché sia un buon giorno Ne voglio mangiare Piano 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 sì In questa fattoria In questa fattoria Io sono il padrone Io sono il padrone qui Voglio fare il duro Voglio fare il duro Non sono una mano Non sono una mano Non sono una mano Ma signore Ma voi non avete mica paura di essere così bello in carne? Perché io sono il re del pollaio, signor sapiente E qui nessuno mi tocca E allora lei la pollastrina è stata comprata per fare le uova E non per essere mangiata Beh, beh, non hai nient'altro a fare cancro di un pezzone? Sì, 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 signore Ho sempre Che cos'hanno tutti con quella cincisprina? Tutti innamorati di lei Ma si può sapere In fondo La ganserveno da galina Sì, sì, sì Grazie Applausi 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 Grazie Applausi Grazie Buonasera! Buonasera! Guardate che vallanese ha tanta voce! Buonasera! 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 Per uscire che vallanese sono timidi eh! Buonasera! 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 Perciò per quello quando si può fare qualcosa per delle situazioni che trattano il tema dell'affilo siamo sempre pronti come compagnia teatrale a crederci perché anche noi, io e mia moglie abbiamo avuto questa esperienza ed è arrivata Anna Maria della Romania 4-5 anni fa il 23 dicembre è stato un regalo penso che un bel regalo di Natale della mia misa ad entrare facciamo l'uscita mi raccomando siate generosi e adesso vi chiedo un ultimo saluto ho bisogno di sei genitori con sei figli per mano in palco grazie dai vallanese su diamo la mamma col figlio maschio il papà con la figlia femmina sei coppi che facciamo il gran finale su buongiorno siamo da quel punto vai chiama allora sangura guarda è la parte della taglia si Marcello 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 Cristina ecco ecco copie non ha i figli grandi però non importa va bene uno due tre copie ecco chi è ok sono sei perfetto grazie tu dirigi il coro non faccia vedere niente grande tu dirigi il coro da grazie 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 Ok, pronti? Direttori, pronti, un passo avanti, direttori d'orchestra. Un passo avanti, benissimo. 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 Un passo avanti. 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 Un passo avanti.